e qui abbiamo... tu, parlaci, che personaggio sei? Sid Barrett chi? Non ti si sente? Parla bene Sid Barrett Sid Barrett, di quale anime? Sorritor e... a che punto sei con la preparazione del costume? abbastanza indietro si? ma cosa stai facendo? I muscoli? no le vene? no, i tatuaggi ah, i tatuaggi e la cosa più figa di questo tavolo è questo ma perché? è questo perché l'hai fatto? oh scusami tieni, ti rimetto il vetro comunque come potete vedere è la... cassonetta, che cazzo è? di... di Cloth3 di ciao allo schermo ciao di Italia1 no di Forza Toscos benissimo adesso verrà eliminato ma verranno censurate queste scene addio